L'istituto comprensivo Teramo II che comprende la scuola Savini, la San Giuseppe e la San Giorgio è stata scelta come scuola sentinella nel programma regionale per i test salivari sugli alunni. Il programma prevede la partecipazione della scuola ad uno screening biosanitario a partire dal 1 ottobre 2021 fatto su base volontaria e riguarderà circa 300 alunni della scuola media e della scuola elementare e esami che verranno ripetuti a cadenza quindicinale. Gli alunni verranno sottoposti a un test molecolare per la ricerca sulla saliva del virus responsabile del Covid-19 per valutare la situazione epidemiologica e mantenere il più possibile la didattica in presenza e in sicurezza. Gli esami in questa prima fase verranno eseguiti da personale sanitario dell'Asri di Teramo e presso le famiglie nella seconda. I campioni in questo caso saranno consegnati a scuola, raccolti e trasferiti nel laboratorio del Mazzini che effettuerà le analisi. Siamo impegnati appunto a fare questo monitoraggio che si farà ogni 15 giorni, sono 165 della scuola primaria e 104 della scuola secondaria. Inizieremo quindi per due mesi, noi faremo il premio ogni 15 giorni presso la scuola, dopodiché verranno esaminati all'interno del nostro laboratorio Covid dell'ospedale di Teramo. Però ecco, lo faremo questo per due mesi, almeno due mesi, per formare i genitori a fare questa attività di tampone salivare, dopodiché saranno gli stessi genitori a doverlo fare i figli e sempre dopo analizzati dalla nostra asena. Il tampone molecolare coinvolge sia la narice che la bocca, invece il tampone salivare viene inserito in bocca, deve essere tenuto in bocca affinché possa, come possiamo dire, recepire tutti quegli elementi che dopo consentono di poterlo sviluppare, e accertare se si è positivi o meno. L'obiettivo è quello di cercare di scovare sempre il positivo per dare tranquillità e evitare che si torni in dad e quindi fare scuola con la presenza dei ragazzi, che è fondamentale anche per la ripartenza e per dare un segno di vitalità e di tornare alla normalità, pian piano, sperando di uscire da questa situazione.